La storia della Genesi, dalla creazione del mondo Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccare Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra Al dramma di Abramo di fronte alla necessità di dover sacrificare il proprio figlio La Bibbia, martedì alle 20.55 Grazie